Benvenuti a Gossip è di più. Restate sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi al canale. Bentornati cari amici. La nostra Antonella Fiordelisi è al centro di un ciclone digitale. È guerra aperta tra la regina del gossip e un ex tronista. Dramma, screenshot e rivelazioni. Continua a sentire e vi svegliamo tutto quello che dovete sapere. Tutti ricordano il tumultuoso percorso di Antonella Fiordelisi nella casa del grande fratello VIP7. Eppure pare che per la stessa Antonella, il gioco non sia ancora finito. Mentre tutti pensavano che i batti vecchi restassero rinchiusi tra le mura della casa, Antonella Fiordelisi ha fatto una rivelazione shock. Luca Onestini, ex coinquilino e ora avversario digitale, sembra aver messo Antonella Fiordelisi nella sua lista nera di Instagram. Sì, avete capito bene. La nostra indomita Antonella Fiordelisi ha condiviso, gossipando al massimo, uno screenshot che dimostra il suo presunto blocco da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. Ma come è iniziato tutto questo? Una fan, incuriosita dai movimenti social del duo, ha suggerito ad Antonella Fiordelisi di seguire Onestini, magari per ricucire i rapporti. Ma, sorpresa, ho appena scoperto che mi ha bloccata, esclama, drammaticamente, Antonella Fiordelisi. Che caos! E ora, il succo della questione. Tutto sembra ruotare attorno a questa singola immagine. Ma c'è di più. Luca Onestini non ha potuto ignorare la frecciatina di Antonella Fiordelisi e ha risposto, dando vita ad una vera e propria battaglia social. Siamo arrivati al punto che c'è gente cesivanta di essere stata bloccata da me, quando in realtà è stata semplicemente non calcolata. Ha tuonato Luca, indirizzando il tutto, ovviamente, ad Antonella Fiordelisi. La polemica ha diviso il web, da una parte chi sostiene Antonella Fiordelisi, accusando Luca di avere un comportamento infantile, dall'altra chi pensa che sia tutta una montatura. Ma Antonella Fiordelisi on si ferma e lancia una sfida provocatoria, facendo riferimento ad un vecchio nomignolo di Luca, guarda a me esce così. Comunque anche meno mestierà. E se tutto ciò non fosse come sembra? Un'ipotesi sta circolando nel mondo del gossip, e se Luca Onestini non avesse effettivamente bloccato Antonella Fiordelisi? Con i profili social sempre sotto la minaccia di hacker e gestiti da manager, potrebbe non essere un gesto spontaneo. In ogni caso, una cosa è certa, tra screenshot, dichiarazioni incendiari e vecchi rancori. Antonella Fiordelisi e Luca Onestini sono i protagonisti indiscussi di questo nuovo capitolo di gossip. E tu, da quale parte stai? La saga di Antonella Fiordelisi continua. Continuate a seguirci per altre news curiose. Non dimenticate di iscrivervi al canale. Alla prossima! 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 Grazie.